E' enorme C'è l'apertoriale giuro. Carcarazzo, carcarazzo. Carcarazzo, carcarazzo. La femmina mia forse è lì nel nido. Guarda dall'alto, loro ci vedono. Come una libera? In mezzo a noi? Sì. Scusa, il cielo è dappertutto, quindi la libera la libera in cielo. Non mi piace questo elemento. Non mi piace, non mi piace. Ah, sembrava che era una foto. Eh, facciamola la foto. A dopo. Grazie. Ciao. Grazie. Grazie. Geppo, che ti ricorda questa cosa? Non mi ricorda niente, niente di buona sicuramente. Ecco qua, ti scritto, D'Angus Rex. D'Angus Rex, bellemus sintesi dal Moamin Reua Tractatum Dearte Benanti, cum habibus. Boots. Dovrebbe essere lui. Io non ricordavo più capelli e barba. C'è un copper? No. C'è Geppo davanti a uno Stargate. Girati, almeno ti si vede dalla tua parte migliore. Grazie. 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 Grazie.